Ciao a tutti ragazzi, oggi torniamo a parlare di sacchiapello, nel particolare vediamo i modelli di Mountain Equipment. Ho qua un modello con temperatura comfort 0 gradi, 5 gradi e 10 gradi e adesso insieme ne vediamo pregi e difetti all'interno della recensione completa. Iniziamo dal modello che più mi è piaciuto di questi tre sacchiapello, ovvero questo modello Transalp. Modello da 10 gradi come temperatura di comfort, presenta un'imbottitura da di oltre 130 grammi con una piuma 80-20 e un fill power di 600. Il tutto per un peso soltanto di 450 grammi. Come potete immaginare la cosa che più mi è piaciuta di questo sacchiapello sono peso e dimensioni. Cioè parliamo di un sacchiapello 10 gradi che secondo me ci si può spingere anche attorno agli 8 senza tanti problemi, soprattutto che pesa meno di 500 grammi, 450 grammi, quindi veramente leggerissimo. E anche le dimensioni, cioè vi assicuro che questo è grosso come una borraccia da un litro. Quindi peso e dimensioni sono gli aspetti che più mi sono piaciuti di questo piccolino. E non solo, perché mi sono piaciute tanto anche le sue prestazioni. Ci si dorme dentro abbastanza bene, forma a mummia, ma una mummia non così tanto ristretta, quindi comunque la notte dentro ci si passa abbastanza bene. Per quanto riguarda i materiali è fatto veramente bene. Utilizza un'ottima piuma, anche materiali esterni molto buoni, idrorepellente nella parte esterna, quindi anche se dovesse capitare sopra qualche goccina d'acqua o di condensa nella tenda, nessun problema. Davvero io ci ho dormito dentro molto molto bene. Mi piace il collarino attorno alla testa e che si può anche andare a stringere per evitare che esca aria calda o entri aria fredda. L'unico neo che ho trovato è che ha una sola zip sulla parte di sinistra. Ha comunque due cursori, quindi comunque bene che ne abbia due perché possiamo giustarli un po' come più ci piace. Però ne avessimo avute due proprio di zip, una sinistra e una destra, secondo me, a quel punto sarebbe stato veramente ottimo. È proprio una cosa che mi manca, mi è mancata un po' questa seconda zip. Però vi assicuro che come materiali, come prestazioni e soprattutto come leggerezza e peso, veramente è un super sacco a pelo. Arriviamo al modello di mezzo, diciamo, quello da 5 gradi, ovvero modello Mountain Equipment Classic Eco 300. In questo caso troviamo un'imbottitura addirittura di 900 grammi con un fill power di 700. Una temperatura comfort, come vi dicevo, di 5 gradi, limite di zero. Il tutto per un peso di soli 760 grammi. In questo caso la cosa che più mi è piaciuta di questo sacco a pelo è il peso, davvero. 5 gradi, 760 grammi, anche come dimensioni ci siamo. Tenete conto che volendo, mettendoci ancora più pressione, lo si riesce a stringere ancora di più rispetto a quello che vedete a video. Però veramente è un ottimo sacco a pelo, ma soprattutto anche per le temperature. È una comfort di 5 gradi, limite di zero. Io tenderei più a dirvi comfort di zero perché a 5 gradi io ci ho dormito dentro e ho avuto abbastanza caldo. Quindi probabilmente è più veritiera una comfort di zero. Per quanto riguarda il dormirci dentro, ci ho dormito veramente veramente bene. Da questo modello iniziamo a trovare il collarino attorno al nostro collo per poter andare a chiudere proprio per bene la parte superiore ed evitare che esca aria calda o entri aria fredda. Mi piace molto anche la scelta di mountain equipment su questa serie Eco di utilizzare piuma completamente riciclata. Piuma che viene rimessa nel mercato tramite un processo un po' particolare che mi hanno spiegato, voi magari se volete ce lo facciamo raccontare, però è una piuma veramente 100% riciclata. Quindi anche dal punto di vista ambientale molto bene. Anche lui forma a mummia, in questo caso una mummia abbastanza stretta. L'ho trovata abbastanza stretta soprattutto sui piedi. Tende sempre un po' ad allargarsi poi dalla vita in su fino alle spalle. Però diciamo che se avessi avuto un paio di centimetri in più sui piedi li avrei graditi personalmente. Tenuto conto poi che questa che ho io è anche la versione long. Esiste anche la versione regular in base alla vostra altezza e che naturalmente pesa anche un pochino di più. Anche in questo caso la grossa mancanza è la seconda cerniera. Ottimo per quanto riguarda l'isolamento, la parte superiore del cappuccio che si può tirare per avvicinarselo alla testa. Però davvero la seconda cerniera mi manca, mi manca veramente tanto. E non c'è, purtroppo anche in questo caso su questo Classic Eco 300 non lo troviamo. Arriviamo infine al modello da 0 gradi, il Mountain Equipment Glacier 450. Come dicevo, temperatura comfort 0 gradi, il limite meno 5, troviamo una piuma 90-10 con un fill power di 700. Il tutto per un peso che è un pochino superiore al chilo. Iniziando da dimensioni e peso, beh in questo caso diciamo che siamo nella norma, uguali a tanti altri competitor. Qui Mountain Equipment magari non ha fatto il miracolo ma abbastanza simile a tanti altri. Mi piace in questo caso come ci si dorme dentro. È un pochino più grosso rispetto al Classic Eco 300 che abbiamo visto prima. Ha qualche centimetro in più, sia sulla parte dei piedi, sia sulla parte della vita. Eppure essendo a mummia, davvero quello dove ci ho dormito dentro meglio. Sono riuscito anche un po' a rannicchiarmi. Quindi davvero, in questo qua il senso di claustrofobia è praticamente ridotto a 0. È molto più simile, se vogliamo vederlo, a un dormire in un sacco a pelo quasi rettangolare. Perché davvero ci ho dormito veramente veramente bene all'interno di questo sacco a pelo. Per quanto riguarda i materiali esterni, qui Mountain Equipment ha utilizzato la tecnologia Dry Left Loft. Ovvero una tecnologia che fa sì che i materiali siano molto leggeri, idrorepellenti anche in questo caso. E soprattutto molto durevoli. Davvero, a me è piaciuto tanto perché ci ho dormito anche delle notti, diciamo un po' facendo free camping. E comunque è andato veramente molto molto bene. Per quanto riguarda la temperatura, come dicevo, comfort è di 0 gradi. Secondo me ci si può scendere sotto tranquillamente. A mio parere diciamo che anche un meno 3, meno 4 ci si arriva tranquillamente. È più, possiamo dire, un po' come un sacco a pelo più 4 stagioni, ecco. Anche in questo caso, come sugli altri 3, mi manca la seconda cerniera. Davvero mi manca, io ne sento proprio la mancanza perché a me piace, ad esempio, dormire con le braccia fuori. E qui non posso farlo, quindi davvero. Peccato questa seconda cerniera che non c'è su questi Mountain Equipment. Perché sennò sarebbero veramente quasi perfetti. Arriviamo dunque alle conclusioni, vediamo anche i prezzi per questi 3 sacchi a pelo. Per quanto riguarda il modello Glacier 450, viene venduto a 450 euro sul sito Mountain Equipment. In online l'ho trovato a un centinaio di euro o meno. Per quanto riguarda il prezzo, anche qua, è nella media. È comunque un ottimo sacco a pelo. Diciamo che, come dicevo qua, non è che Mountain Equipment abbia fatto il miracolo. È un ottimo sacco a pelo, svolge veramente bene il suo lavoro. Ve lo consiglio, alla fine sì, perché comunque mi ci sono trovato veramente molto molto bene. Ma è uno dei tanti, ecco. Può andar bene, cioè, è uno dei tanti che ci sono in commercio. Per quanto riguarda invece il modello Classic Eco 300, viene venduto a un prezzo di 300 euro. Ecco, già qua, secondo me, questo è veramente un ottimo sacco a pelo. Ve lo consiglio fortemente, perché lo si può utilizzare come sacco a pelo abbastanza anche 3 stagioni. Perché comunque, secondo me, a zero gradi, anche vestiti bene, ci si arriva senza tanti problemi. Quindi, è veramente un ottimo sacco a pelo. E poi dimensioni e peso, veramente piccolino. Come vi dicevo, Mountain Equipment lo vende a 300, online si trova su 250-260. Secondo me ci sta, ci sta veramente tanto. Anche perché, cosa che non vi ho detto, questi due sacchi a pelo hanno la sacca roll-up. Ovvero che noi possiamo molto semplicemente andare a inserirli all'interno e poi far uscire tutta l'aria per ridurne le dimensioni. Sacca che è molto intelligente, mi ha stupito molto, perché non l'avevo mai provata sui sacchi a pelo. E davvero, è una svolta, soprattutto per quelli in piuma. Infine, arriviamo a quello che veramente mi è piaciuto tantissimo. Cioè, a me questo Mountain Equipment Transalp, l'ho amato. Cioè, veramente l'ho amato. Piccolissimo, veramente leggero. Viene venduto a 170 euro, online sui 140-150 lo si trova. Va bene, uno può dire 150 euro per un sacco a pelo da 10 gradi, sono tanti. Sì, però comunque ricordatevi che parliamo di piuma. Parliamo di un sacco a pelo che pesa meno di 500 grammi. Parliamo di un sacco a pelo che è grosso come una borraccia da un litro. Cioè, se dovete andare a fare dei bivacchi, bivacchi proprio in teso strutture, o comunque anche delle notti, in tenda, all'aperto, d'estate, cioè questo come sacco a pelo estivo è un must. Veramente piccolissimo, lo buttate nello zaino, non ve ne accorgete neanche di averlo. È grosso un pochino più del mio piumino, per intenderci. Quindi veramente, questo Transalp io ve lo consiglio, anzi, quasi quasi me lo compro anch'io. Detto ciò, ragazzi, io nella speranza sia stato esaurante e esaurante anche per questa recensione, io vi ringrazio per averla guardata e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!